oh ti devi muovere voglio ti devi muovere io ho scaricato l'applicazione ho scaricato l'applicazione ti devi alzare tizio è l'applicazione per conoscere i single è meglio queste ragazze di milano che ho conosciuto e che me le frega a me delle ragazze di milano no no il feedback è positivo dici che sono buono dai per favore dammi una mano andiamo giù sono buono queste ragazze di questi c'è il gps incorporato dai mo ti melo stai andiamo giù ti scambi la su tutte le figlie ragazze vediamo vediamo ma sei sicuro che sono buone lo dici a applicazione l'uvo fidati di l'uvo fidati di l'uvo dai ma sei sicuro che sono buone fidati di me di l'uvo di te no di l'uvo beh dove ci portano questi dei malzioni e meno male che l'uvo non sbaglia mai Mosca qui dei mostri sono brutto